Il fianco a stagnaio, ora, attenzione, c'è la coppa, come sempre scaramanticamente la si prende ma non la si alza al cielo perché c'è la possibilità per Rocca di Mezzo di strappare questa coppa E sarà Davide che è già pronto, che dovrà entrare in cabina e provare a strappare appunto la coppa Vieni Davide, vieni Per far questo dovrà ovviamente una volta bendato contare con precisione fino a 30 per evitare che 20 litri d'acqua cadano sulla sua testa Per far ciò però abbiamo assolutamente bisogno di totale silenzio in studio, vi preghiamo, grazie di fare silenzio Per favore Davide quando vuoi premi il pulsante e poi cominciare a contare, silenzio, grazie Per favore 28 e 8, troppo presto Vai pure da asciugarti, grazie Ora si lascia tutto lì, non ti preoccupare Vai, vai, vai Vai da asciugarti e ora Bianca Stagnaio, campione di Mezzogiorno in famiglia Grazie 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 a tutti.